Magnolia, dove sei? Bevo caffè. Ne vuoi un pa'? Ehi. Dixie! Vieni qui, si è qui. Sì, papino? Dovevi farla rimanere idratata, è un caffè corretto. Deve aver aperto il mobile dei liquori quando non stavo guardando. Sai come si dice, gli alcolisti trovano sempre il modo di bere. Per favore, va a prendermi un analgesico nella camera da letto di sopra. Oh, dai, Magnolia, è del tuo futuro che stiamo parlando. Se fallisci, potresti perdere il tuo sponsor. E ogni chance per una borsa di studio andrebbe persa. Borsa di studio? E da quando ti interessano queste cose? Mi interessa la mia vincente. Questa non sei tu. Senti, lascerai che il maiale patti ti porti via anche il concorso di bellezza. No. Io odio quella stronza. Bene, e allora entra in partita. Tieni. Cos'è? Le risposte al quiz del concorso. So che cosa stai provando, ma siamo i Barnard. Riusciamo sempre a uscirne a testa alta. E a volte serve solo una vittoria. . Riusciamo sempre a uscirne a testa alta. Grazie a tutti.